Ottanta aziende espositrici provenienti dalla Campania e da altre regioni italiane potranno incontrare anche quest'anno buyer internazionali grazie a cibo e dintorni. Dal 4 al 6 novembre prossimi il Grand Hotel Salerno ospiterà la dodicesima edizione del Salone Internazionale dell'Alimentazione che si avvarrà di diversi partner, dalla Centrale del Latte ad Arnone alla Nuova Santa Rosa, tipico NET, e alle Camere di Commercio italiane all'estero. 9 i paesi presenti al workshop oltre all'Italia, Giappone, Spagna, Bulgaria, Sudafrica, Turchia, Svezia, Portogallo e Francia con operatori della piccola e grande distribuzione per incontrare a Salerno i produttori italiani. Previsti anche momenti di degustazione, laboratori ed un angolo artistico con le ceramiche di Pietrolista. Lasciamo la parte tecnica semplicemente quest'anno abbiamo il piacere di avere 9 paesi rappresentati quindi ci saranno buyer provenienti dal Giappone, dalla Turchia, dal Sudafrica, dalla Francia, dalla Spagna insomma sono 9 paesi in tutto rappresentati che verranno per incontrare i produttori italiani e chiudere degli accordi commerciali. Quindi quella parte rimane normalmente così ed è quella che più interessa diciamo ai produttori fondamentalmente. Per il pubblico invece abbiamo diverse novità perché ci saranno innanzitutto i laboratori dei sapori quindi ci sarà il laboratorio per esempio della sfogliatella che dove si va a vedere la preparazione e poi si degusta ovviamente, la stessa cosa per la mozzarella, per la pasta insomma ci sono diversi laboratori aperti al pubblico, delle degustazioni aperte al pubblico e poi in particolare la news di quest'anno sono le ceramiche di Pietrolista che presenterà in occasione di Cibo ed Intorno e sono delle ceramiche ovviamente a tema con il cibo.